Buonasera Terenzile, lei non ti ricorda ma 50 anni fa c'era anche io là dietro alle quinte perché portavo i cavalli con quell'altro e stiamo là con i fagioli dalla mattina alla sera ma tu hai portato anche il cavallo della slitta? Sì i cavalli sì perché gli erano portati a Sergi e dopo da Sergi li siamo portati qua sopra guarda ti devo ancora ringraziare perché non si capisce quel cavallo quando stava così era talmente bene addestrato stava sempre fermo bastava che io facessi e partiva infatti l'ultima inquadratura era in California e è partito e grazie 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 a te grazie un aneddoto tipo questo la ripresa della scena del secondo film dell'attacco di Terenz che